Fa la corsa col cane e l'altro porta le borse della spesa, sta meglio di me, mio marito non riesce a camminare, è una vergogna. Di fianco a casa mia c'è un alloggio in vendita, quando il compratore ha visto il giro che deve fare per entrare in casa sua ha rinunciato all'acquisto. E il mio alloggio sono sicuro che non ha più il valore che aveva prima, sicuramente è svalutato. Signor Sindaco, le sembra un buon affare quello che mi ha fatto fare, la saluto, la chiedere. E via fanno i roncaticarli, è intoccabile, signor Sindaco, lo chiedo solo per curiosità. Grazie.